ehi vieni ti sveglio il segreto per il regalo perfetto anche se non hai tanto tempo e sei povero di idee se non vuoi finire come tutti gli anni passati cioè ridurti all'ultimo minuto e correre in mezzo al traffico natalizio oppure nei soliti centri commerciali per rimediare il solito regalo ma vorresti vedere la felicità e la soddisfazione nei suoi occhi mentre scarta il tuo regalo e noterà che sì quest'anno l'hai stupita hai davvero cercato un regalo personalizzato scelto opposta per lei che non si trova nei centri commerciali e nemmeno online sarà entusiasta e ricordati bene il miglior dono è regalare del tempo alla persona cara noi di Eren abbiamo il segreto per il regalo perfetto trattamenti a edizione limitata legati ai quattro elementi della natura acqua fuoco terra e aria profumi oli lettino caldo con cromo e musica rilassante saranno i veri protagonisti oppure se sei incerto gift card per soddisfare il desiderio di un regalo di bellezza quest'anno ho pensato veramente a tutto niente lasciato al caso dalla confezione alla consegna ci penso tutto io insomma sarò il tuo babbo natale vedrai sarà favoloso e in assoluto stupirai chi vuoi bene rendi unico ed esclusivo questo natale regala benessere ti aspettiamo